Un incredibile record raggiunto a bordo della mitica portaeri Giuseppe Garibaldi della Marina Militaria Italiana ormeggiata nella stazione navale Margrande di Taranto. Il pilota romano Fabio Barone ha stabilito il nuovo record mondiale di velocità a bordo di una nave. L'impresa ha la guida di una Ferrari SF90. Il bollide da mille cavalli ha sfrecciato sul ponte del Garibaldi lungo 174 metri a una velocità massima di 152 km orari. L'incredibile accelerazione e poi la relativa frenata per non finire in mare. Cade così il precedente record stabilito nel 2019 dalla pilota americana Shea Holbrook che a bordo della portaeri statunitense Hornet aveva raggiunto i 145 km all'ora ma la pista della Hornet si va di bene più lunga di quella del Garibaldi di oltre 100 metri. Un risultato straordinario dunque frutto di un lungo lavoro di preparazione maturato grazie anche al contributo della Marina Militare. 13 luglio di 100 anni fa ha vinto la Coppa Cerbo a Enzo Ferrari quindi a 100 giorni esatti abbiamo deciso di dedicare a lui e se mi chiedi una seconda dedica sicuramente alla Marina Militare perché come ho sempre detto mi ha accolto come se fossi in casa e credo che non smetterò mai di ringraziare la Marina Militare. Ha contribuito in maniera determinante Modesto Menabue il più titolato meccanico di tutti i tempi 40 anni in Ferrari e 500 gran premi disputati. Ha coordinato anche il team tecnico e protagonista di un'iniziativa benefica con l'associazione Abilmente Insieme Onlus di Galatina, il comandante del Giuseppe Garibaldi. Per noi Garibaldini ovvero equipaggio di questa unità della giornata di oggi un'altra pagina di questa gloriosa storia scritta in più di 40 anni di attività operativa con un'attività certamente insolita ma che addirittura vedrà l'unità ascritta nei registri del Guinness World Record quindi per noi sicuramente è un momento di prestigio e un onore essere stati non solo testimoni ma anche un po' partecipi di questo bel team che abbiamo ospitato in questi giorni. A fine anno il Giuseppe Garibaldi andrà in pensione dopo tanti decenni di onorato servizio per la Marina Militare, la prima portaerei che naturalmente verrà sostituita nel suo ruolo dal Trieste.